www.telecentro.it La serie B interregionale in attesa della C che partirà nel prossimo fine settimana partiamo anche noi di Toscana Basket come sempre un appuntamento ormai tradizionale siamo qua su Telecentro ogni lunedì per farvi compagnia parleremo quest'anno anche della serie A2 oltre che della B interregionale serie C e poi ogni tanto ma non così poi ogni tanto parleremo anche della serie B femminile perché ci sono tre squadre in A2 e è giusto dare spazio anche all'universo. della nostra pallacanestro. Iniziamo con il botto perché abbiamo tre ospiti importantissimi, li vado a presentare Vic Belletti, coach Costonesiana, ciao Alessandro, buonasera a tutti. Buonasera a te Reduce da un gran bel colpo poi ne parleremo a Quarrata, buona la prima vien di dire. Buona la prima. Poi con noi e lo ringraziamo davvero il presidente della FIP Toscana Massimo Faraoni, la FIP Toscana che ci dà una mano nella realizzazione di questo format, ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. E poi il coach della Libertas, Livordo Marco Andreazza, ce l'avevi promesso, ogni promessa è un debito, ecco di qua. Sì, ciao Ale, buonasera a tutti. Allora, fatte le operose presentazioni, partiamo da Massimo. Qual è lo stato del basket del Gran Ducato? Diciamo che dopo il Covid sono stati tre anni importanti per il basket toscano e una bella crescita negli ultimi tre anni dal punto di vista sia del numero delle società, dei partecipanti e dei campionati. Perciò, grazie alle società, ai dirigenti, ai ragazzi e alle ragazze, sicuramente oggi siamo in una situazione ottimale della pallacanestro, perché i numeri degli ultimi tre anni sono i migliori numeri degli ultimi dieci anni della pallacanestro toscana. Un briciolino di merito a Toscana Basket, vogliamo darlo? No, sicuramente la comunicazione è molto importante, grande merito, sicuramente principalmente dei dirigenti delle società, poi chi collabora intorno a questo sicuramente dà un contributo importante per la crescita del movimento. Lo scorso anno si parlava di oltre 10.000 partite, o quasi 10.000, ce la facciamo quest'anno a battere questo muro? No, 10.000 no, però insomma 9.400 partite regionali sono tante, speriamo di arrivarci, questo è un merito dell'ufficio gare di Firenze, dell'ufficio gare di Livorno, che sono molto attivi e presenti in questa organizzazione, che è sicuramente impegnativa dal lunedì alla domenica. Ricordo ovviamente che come sempre i nostri telespettatori possono interagire con noi inviando sms al numero in sovrimpressione o anche messaggi whatsapp che verranno letti dal sottoscritto. Bene, direi di entrare nel vivo della trasmissione andando a vedere quelli che sono stati i risultati della Serie A2, perché quest'anno, come vi dicevo nel cappello di apertura, come avete potuto notare nella nostra sigla, parleremo anche del secondo campionato nazionale, vista la presenza in quel torneo della Libertas di Livorno. Prego Alessandro di metterli a video, eccoli qua i risultati della prima giornata, ovviamente il focus è sulla Libertas, Libertas che ha perso a centro dopo aver lottato e dopo la Serie A2 ha avuto anche 13 punti di vantaggio, la compagine Lavronica. Nei risultati spiccano qualche sconfitta magari in attesa, come quella di Brindisi, ancorché in formazione rimaneggiata, quella di Pesaro a Nardò, ha fatto molto bene invece Milano dell'ex coach della PL Marco Cardani, che ha iniziato veramente con il botto. Questi sono i risultati, ovviamente non diamo neanche la classifica perché è molto semplice, chi ha vinto è a 2, chi ha perso è ancora al palo. Allora Marco, prima di entrare nel merito della partita della tua squadra di Cento, un campionato con tante novità, la prima viene promossa, play-in, che stanno avendo tanto successo anche in Eurolega, un torneo dai livelli molto molto elevati. Niente a che vedere secondo me con la 2 dello scorso campionato. Sì, questo è sotto gli occhi di tutti, oserei dire anche 8 turni infrasettimanali, un girone unico che a memoria non si vedeva da tantissimi anni, quindi tutta una serie di fattori logistici e regolamentari che complicano ancora di più e innalzano il livello del campionato, non fosse altro anche per la presenza di club storici, di club che hanno investito, di giocatori, tanti stranieri e anche italiani provenienti da prime leghe, che si sono fatti convincere sicuramente dagli ingaggi, ma sicuramente anche dal fatto che ci sono compagni avversari che hanno trovato nelle prime leghe, e quindi diciamo che il novero delle contendenti è altissimo e il numero dei giocatori di altissima categoria è ancora di più. Vostro obiettivo? Salvarsi. Non importa quando, possibilmente? Salvarsi prima possibile, è inutile stare qui adesso a vendere fumo dopo una giornata di campionato, sapevamo benissimo, sappiamo che storicamente le neopromosse possono portarsi in dote dei vantaggi, che sono quello di avere un gruppo solido, di aver vinto il campionato qualche mese prima e anche degli svantaggi, perché quando poi tu vai a mettere dentro dei giocatori, noi quattro, che però sono quattro giocatori importanti nel loro ruolo, alcune dinamiche, comunque giocoforza vanno a cambiarsi, quindi abbiamo già in poche settimane di lavoro trovato degli automatismi, altri vanno trovati con il tempo e con il lavoro, credo che senza vendere fumo noi dobbiamo provare innanzitutto come atteggiamento a competere ogni partita, perché questo ce lo richiede la piazza, la tradizione e ce lo richiediamo noi stessi, e poi vedremo andando avanti con la classifica come saremo messi. Prima di entrare nel merito della partita che avete giocato voi, voglio sentire anche il presidente e Mitch su questo campionato, un campionato che anche per le tante novità che prevede il format si preannuncia molto appassionato e interessante, ogni partita conta. Quello che ha detto Marco è perfetto, perché è un campionato in girone unico, 20 squadre, si gioca tante partite, play-off, play-in e play-out, da tanti anni che non si vedeva, la prima va su direttamente, le altre si giocheranno l'altro posto di promozione tramite play-off, perciò un bel campionato che sicuramente darà molto interesse e anche competizione, perché anche dai risultati della prima giornata si vede che tutto non è scontato e ci sarà sempre un equilibrio per tutta la stagione. Mitch? Hanno già letto quasi tutto loro, in aggiunta posso dire che proprio matematicamente alla Serie A2 mancano 12-14 squadre che fino a due anni fa partecipavano a quel campionato e che per forza di cose si è alzato il livello della Serie A2, tantissimo, e a cascata anche della B-Nazionale, perché quelle 12 squadre che mancano all'appello ammontano circa un centinaio di giocatori che si sono accasati nella categoria sotto, quindi il girone unico, turni infrasettimanali, livello dei giocatori più alti rendono il campionato sicuramente appassionante, ma difficilissimo perché ci partecipano. Assolutamente sì, ci sono già diversi messaggi proprio a questo riguardo, cerchiamo di dividere i messaggi in relazione all'argomento del quale si parla. Il nostro amico ci chiede prima di tutto la formula, la formula dice questo, corriggetemi se sbaglio, la prima sale direttamente, le sei successive, quindi dal secondo al settimo posto sono qualificate direttamente ai play-off e le quattro successive si contendono gli altri due posti a disposizione, poi ci sono l'ultima retrocede direttamente e poi ci sono i play-out. E questo fa sì, aggiungo io, che ogni punto conta, si diceva poco fa nel fuorionda, no Marco, che per esempio le sconfitte di Cantù, di Brindisi, in ottica eventuale primo posto di Pesaro, possano contare. Questo sicuramente per chi ha ambizioni di agguantare il primo posto alla fine della regular season sicuramente sono punti importanti, anche se poi io credo che alla fine delle 38 giornate chi starà davanti sarà quello che avrà meritato, perché poi fortune e sfortune si compensano, infortuni e quant'altro, può esserci la sorpresa o la delusione della stagione, ma chi è davanti dopo 38 giornate è giusto che vada premiato. Mi piace molto questa cosa dei play-in, perché comunque tiene vivo anche una fascia centrale di squadre che magari in corso d'opera potrebbero anche avere motivazioni abbassate, invece questo tiene vivo tutti, perché non è la stessa cosa guadagnarsi un posto play-off o dover passare tramite il barrage dei play-in, soprattutto perché ci sono tantissime squadre che hanno investito e che quindi magari vedere sfumare la possibilità di giocare i play-off proprio all'ultimo magari non è propriamente nei loro obiettivi, quindi a me questa formula piace. Detto che la Libertas ha commettito la salvezza, l'hai detto tu poco fa, quali sono le squadre più accreditate secondo voi? Secondo me l'Eritro Cesse, la Fortitudo e Cantù, Mitch e poi Massi? Sicuramente quelle, se vogliamo parlare… Hai studiato bene, adesso siamo ancora molto connessi al basket d'estate, poi in realtà la pallacanestro, voglio dire la storia della pallacanestro è piena anche di sorprese, però tendenzialmente gli investimenti poi si ritrovano nel corso dell'anno, quindi sicuramente quelle sono le squadre che in questo momento hanno i favori del pronostico e ritengo che sia giusta una formula che premi la prima classificata, perché le sorprese poi nei play-off fanno male… Ci sono memorie pielline. In generale credo che al termine di una regular season in B1, in A2 può anche essere giusto che chi ha vinto la regular season venga premiato, vengono premiati quegli investimenti, proprio per dare importanza anche a questa parte così lunga dell'anno. Massimo? Sì, ci sarà un grosso equilibrio, secondo me oltre queste ci sono altre squadre tipo Verona, Udine e Rimini che insomma sono squadre ben organizzate che possano dire la loro, ci sarà un bel equilibrio diciamo per le prime 7-8 squadre sicuramente. Tanto Verona e Rimini allenati da due coach livornesi, Ramagli nella città di Giulietta e Romeo e sulla Rivera invece c'è Sandro Dell'Agnello, sono tanti gli allenatori livornesi, ma perché c'è questa scuola? Da cosa nasce Massimo? Non credo sia un caso. No, non è un caso, però nasce un pochino da un periodo di formazione degli anni 90 dove questi allenatori hanno iniziato a lavorare sul settore giovanile, hanno seguito una scuola abbastanza importante che può essere quella in quegli anni di Gianfranco Benvenuti, di Ezio Cardaioli che erano gli allenatori delle prime squadre, c'è stato anche Piero Pasini, perciò di conseguenza quella linea lì che in quel momento lì c'era anche più volontà di apprendere e volontà di confrontarsi. Quello che oggi un po' si può criticare alle nuove leve è quello che si vede troppo i video, si vede troppo le clip, si vede troppo cosa dice il procuratore o la gente per prendere giocatori. Secondo me prima c'era il fatto di volersi migliorare, era quello di prendere la macchina, andava a vedere un allenamento di Messina, andava a vedere un allenamento di Mario Blasone quando allenava le nazionali giovanili e questo ora forse un pochino manca come manca un po' sulla parte del settore giovanile, bisogna un po' riavvolgere il naso e ripartire da prima. La federazione ora ha fatto finalmente un progetto importante sull'attività giovanile che verrà seguito da Tome e da Marco Sodini e sarà in tutta Italia e questo è un progetto dove a partire dieci anni fa e abbiamo perso dieci anni di tempo, ora vediamo di riboccarsi le maniche perché credo che dobbiamo lavorare molto bene per il futuro. Posso aggiungere una cosa? Quello che ha detto Massimo è verità sacrosanta, bisogna anche dire che in quegli anni c'è stato un dirigente, soprattutto qua a Livorno, che non facciamo il nome ma che è qui presente, che ha creduto in queste persone qua perché aveva competenza, conoscenza, sapeva che magari non era un rischio affidare loro le prime squadre e quindi questo adesso non è che devo tessere io le lodi di Massimo, non sono proprio la persona adatta perché la storia e l'esperienza di Massimo parla da sola, però questa è stata una cosa. Sicuramente quello che ha detto Massimo, io faccio parte di una generazione molto vicina a quella, difatti i miei amici sono quelli ed è vero, io ho avuto la fortuna di crescere a Benetton Treviso e c'era gente che, io ho avuto dei clinici gratuiti giornalieri, c'era gente che prendeva la macchina da tutta Italia, che mandava le mail, si può venire a vedere questo? Così come in Via Pera venivano a vedere tutti gli allenatori livornesi che poi sono passati per le prime squadre e era, posso dirlo, una pallacanestro leggermente diversa anche come importanza della nostra figura, come figure dirigenziali e quindi il merito era di tutto, però c'era una grande valenza in tutto quello che si faceva. Concordi? Concordo, assolutamente. Io nel mio piccolo non ho avuto la fortuna di nascere in una terra di basket perché a Novara, pur essendo alto il numero di praticanti, non c'è stata mai una prima squadra che ha fatto da Traino, se non la Cimberio, all'epoca Cimberio-Borgomanero che per qualche anno andavamo tutti a vedere, non c'era tradizione e io ho sentito l'esigenza di muovermi, la mia carriera nasce un po' anche lì, quindi ho seguito un po' allenatori e possibilità di fare l'esperienza, di fare la mia gavetta lontano da casa perché non ho avuto una scuola a casa mia. Allora, vediamo la partita della Libertas, voi avete cominciato benissimo, siete avanti anche di 13, poi siete un po' calati, complici anche qualche ruolo di troppo da lontano e alla fine i due punti sono rimasti a 100. Sì. In estrema sintesi. No, in estrema sintesi è abbastanza corretta, avendola vissuta. Ti dico che il primo quarto abbiamo giocato una qualità di pallacanestro offensiva e difensiva altissima, ne ha finito 27-17, poi sono cominciati prima di tutto gli errori difensivi che non puoi permetterti e abbiamo chiuso il primo tempo sopra di tre che era veramente poco. Poi è ovvio che loro, rientrati in partita, il pubblico, la stanchezza che poi alla prima di campionato si fa sentire nel corso di 40 minuti abbiamo cominciato a costruire meno e a sbagliare dei tiri aperti, perché abbiamo sbagliato tantissimi tiri da tre punti aperti, poi come nel primo quarto era salito in cattedra Banks, per noi nel terzo e quarto quarto è salito in cattedra Delfino che ha fatto delle cose veramente da fuori classe, qual è ancora questi livelli ad onta? E' quel Delfino che avrà 42 anni, però è un giocatore che ha una classe cristallina e noi veramente di canestri facili poi nel secondo tempo ne abbiamo concessi pochi, però poi c'era scappata un po' l'inerzia e quindi diciamo che 100 ha vinto con merito. Cos'è mancato? Solo la precisione da tre punti, difendere più forti o cosa? Oppure 100 ha fatto una gran parte? No, c'è tutta una serie di fattori, c'è anche che abbiamo subito due bombe da 9 metri da Nobile che ha il 18% da tre punti in carriera, abbiamo subito una bomba di sperduto da 7 metri di tabellone, quindi tante cose alle quali non bisogna aggrapparsi perché sarebbe disonesto nei confronti di 100, però tutta una serie di fattori che poi sommati hanno fatto sì che nel momento in cui loro sono andati in doppia cifra di vantaggio noi alla prima di campionato ci abbiamo messo troppo per capire cosa dovevamo fare per tornare in partita e quindi lì alla fine non ci sei mai riuscito pur tornando a meno 6, pur avendo delle situazioni da cavalcare, ma poi c'è stata un po' troppa confusione anche in attacco, miglioreremo. Ci sono un paio di domande per te, proprio specificatamente riguardo la partita di 100, buonasera, volevo chiedere a Coccia Andreazza perché in difesa non ha provato a mettere Tozzi su Delfino? È una domanda sulla quale abbiamo riflettuto anche noi nel corso della partita, ma quando tu poi sei alla ricerca di assetti di un certo tipo per contrastare i loro lunghi, perché vorrei ricordare che ieri 100 ha fatto il break quando hanno giocato con la coppia di lunghi Alessandrini Davis che apriva il campo, quindi avevamo bisogno di Tozzi anche nel numero 4 perché abbiamo abbassato molto il quintetto, Buca che forse si meritava di stare in campo un po' di più, l'abbiamo dovuto sacrificare a pochi minuti, quindi non è mai una scienza esatta, è stata valutata anche questa cosa qua e devo dire la sincera verità che se si va a rivedere la partita, io l'ho rivista tre volte da ieri, diciamo che il coefficiente di Canestri che ha fatto Delfino, probabilmente serviva Kevin Durant, vecchio stile per mettergli la museruola, quindi è una riflessione corretta che abbiamo fatto anche noi nel corso della partita, ma nell'economia delle rotazioni che dovevamo fare ieri abbiamo deciso di non metterlo. Tra l'altro in A2 Massimo si segna di più rispetto alla B dove giocava la squadra di Marco lo scorso anno, partita a 60 punti non si vincono, o quanto meno è difficile? Sì, c'è più voglia di correre, di fare l'attacco, ci sono giocatori di più talento, come ha detto Marco prima, Delfino, poi ce ne sono altri, però dobbiamo valutare che poi per vincere un campionato difendere è molto importante, se uno deve vincere un campionato difendere nei play-off è molto importante, 198 è difficile. Dici così. Sì, è vero, probabilmente poi in A2 il fatto che ci siano due stranieri, due americani per squadra, con la cultura molto dell'uno contro uno che alzano il talento e la fisicità di tutte le squadre, è facile avere partite con un punteggio più alto, però poi dopo le squadre che vincono i campionati sono quelle più solide in difesa, assolutamente. Ci sono ancora messaggi, quelli per te li tengo dopo. Allora questo è per Marco, volevo chiedere al coach che tipo di giocatore è Hooker? Allora, Hooker innanzitutto è una persona di una qualità umana assolutamente elevata, a livello di giocatore è un giocatore che ha sempre giocato in prime leghe, quindi è un giocatore con del talento, ad onta dell'altezza, stiamo parlando di un giocatore di 1,80 m, un giocatore che non va sotto fisicamente con nessuno, è un giocatore che venendo da tantissimi anni di prime leghe e prime leghe importanti come la prova francese, deve anche prendere le misure del campionato perché si sa che in Francia in A1 ci sono sei americani, quindi magari la distribuzione delle responsabilità può essere diffusa in una seconda lega come quella italiana dove gli stranieri sono due e tutto quanto magari deve tornare a fare delle cose a cui era poco abituato, ma è un ragazzo di grandissima disponibilità, veramente solare, educatissimo e di grande intelligenza che chiede tantissimo durante gli allenamenti, a fine allenamento per provare a inserirsi più possibile, tecnicamente è un giocatore che ha le qualità fisiche e tecniche per giocare playmaker, però ha anche la possibilità quando giochiamo con Filloi o Banks con la palla in mano di avere delle percentuali da 3 punti altissime, fatto salvo ieri sera che ha tirato con 0 su 4 da 3 punti e questo un po' magari lo abbiamo pagato in termini di produttività offensiva, però sicuramente è un giocatore di grandissima qualità. Per lui 10 punti in 27 minuti con 0 su 4 da 3, 3 su 7 da 2, voi avete tirato 8 su 30 da 3, si può fare meglio? Si può fare meglio e soprattutto si può tirar meno, siamo ancora una squadra che deve entrare completamente nel sistema, abbiamo fatto delle scelte come spesso facciamo a inizio anno di mettere dentro un po' tutto e quindi quando si fa tanto globale poi c'è rischio di fare anche un po' confusione, di usare poco alcune armi, ad esempio ieri potevamo andare di più con la palla dentro, potevamo usare di più le uscite blocchi, ma queste sono cose che gioco forza vengono con il lavoro, vengono con l'analisi, quindi diciamo che tutto quello che è lavoro non ci spaventa, quelli che sono stati gli errori grossi che abbiamo commesso ieri dobbiamo toglierli subito, ci deve essere grande distinzione tra le due cose, quello che fa parte del miglioramento durante la settimana e del lavoro è accettabile, quello che non è accettabile è un certo tipo di errori che abbiamo commesso pur lavorando a questa partita da due settimane, perché noi l'ultimo amichevole con Rieti non l'avevamo preparata, quindi alcune cose sinceramente potevano andare meglio e sono le cose che ci hanno tolto l'inerzia, ma ne abbiamo già parlato con i ragazzi oggi e sono molto motivati. 20 di Banks che ha tirato 8 su 11 da 2, 0 su 8 da 3, bene anche il veterano Filloi, 14 mette 3 minuti con 4 su 7 da 3, Filloi massimo a questi livelli una garanzia al di là del fatto che sia avanti con gli anni. Giocatore di talento, un giocatore che ha già vinto tanti campionati, un giocatore di esperienza che può giocare in più ruoli, sicché è sicuramente una garanzia per il campionato di A2. Per chiudere l'argomento, Libertas e poi passare alla B nazionale, una domanda, te l'ho già fatta in sede di presentazione, voi avete scelto di andare con due americani piccoli nel back out, non è che questa è una scelta che può essere pagata in senso negativo, intendo sotto le plance? Sarà il campionato che ce lo dirà, è ovvio che quando uno fa delle scelte le fa cercando di essere più ragionatore possibile, pensiamo di aver fatto delle scelte giuste, è ovvio che abbiamo delle scommesse da vincere, perché comunque Buca era esordiente in Serie B e dopo nove mesi si ritrova a essere esordiente in A2, Tommaso Fantoni non fa la Serie A2, non è esordiente, ma non fa la Serie A2 da qualche anno e aveva finito giocando da cambio di un americano, Francesco Fratto l'ha fatta, Luca Tozzi non l'ha mai fatta, quindi sappiamo che Nazareno italiano invece è un giocatore che viene da tanti anni di Serie A2, quindi sappiamo che abbiamo un pacchetto lunghi con determinate caratteristiche, questo è poco ma sicuro, però per quello che era un discorso di trade union con l'anno scorso, budget, obiettivi del club, abbiamo fatto questa scelta di mettere esperienza e talento negli esterni e non siamo unici, quindi non credo che abbiamo fatto niente di così fuori dal mondo. Assolutamente, ci sono tantissimi messaggi che ci chiedono di sapere dove si giocherà la partita di mercoledì contro Torino, sia al Palamacchia o al Modigliani, Massimo tu sai qualcosa? No, domani c'è un incontro con i tecnici al Palamacchia per vedere e risolvere il problema dello stop lamp che è quello, il problema in quanto in A2 è obbligatorio e in B non è obbligatorio, ecco perché la Palamacchia di Solivone ha potuto giocare, c'è dei problemi diciamo con la ditta che ha avuto l'incarico di fornire e mettere a posto questa struttura, però insomma è già qualche giorno che sia l'amministrazione, sia il gestore del Palamacchia Sport sono sul pezzo per vedere di risolvere questo problema che può darsi se si risolva domani mattina. Bene, speriamo altrimenti si gioca al Modigliani Forum. Bene, chiusa la parentesi ampia sulla A2, andiamo a parlare di B nazionale, andiamo a vedere i risultati, abbiamo prima il nostro spottino, ringraziamo sempre tutti i nostri sponsor che rendono possibile l'effettuazione di questa trasmissione, abbiamo qualche buco vuoto per il classifica e i risultati, per cui se c'è qualcuno intenzionato ad avere un po' di visibilità in tutta la Toscana siamo qua apposta. Prego con i risultati. I risultati della Serie B nazionale sono offerti da Caffetteria Enoteca Bistrò Madiba, Via della Madonna 56 Livorno. Eccoli qua i risultati, sempre con le splendide grafiche di Basket World Life e la consorella Toscana Basket World Life dell'amico Stefano Regoli che andiamo ovviamente a ringraziare, vedete la bella vittoria, l'ennesima di Roseto che ha asfaltato la Luisa Roma, poi magari un passaggio su Roseto ce la facciamo, andiamo a vedere i risultati delle Toscane, quattro vittorie, una sconfitta, la sconfitta è quella di Piombino, la vittoria di Chiusi in volata 72 a 71, la vittoria in rimonta della PL su Sant'Antimo, le vittorie in trasferta delle due di Montecatini, sofferta quella di Irons a Cassino, più agevole quella della TGMA Montecatini a San Lazzaro. Questi sono i risultati, ci sono anche le altre ma magari poniamo il dito sulla bella vittoria di Caserta a Roma, Sponda Virtus, Virtus che è una delle squadre maggiormente accreditate, anche qua non vediamo la classifica, due punti per quelle che hanno vinto, zero ovviamente per le sconfitte. Mitch, partiamo dalla PL, tu hai lasciato un pezzo di cuore in casa PL, ci sono tantissimi messaggi per te, te ne leggo uno, ti saluto, potevi rimanere diceva il nostro amico, però l'idea era di provare a fare il primo no? Anch'io ho lasciato un pezzo di cuore alla PL, sia per le persone… Ma è vero che mi dicono che se la PL va in finale playoff e tu non sei impegnato va in curva. Sì, sì, mi piacerebbe vivere un attimo quell'atmosfera da pazzi che è la curva, spero di essere impegnato anch'io in quel periodo, però se dovesse essere libero sicuramente il cuore è rimasto lì, è stata un'esperienza che è andata oltre a quella lavorativa, chi allena squadre a Livorno, penso che Marco possa dire la stessa cosa, vive un'esperienza fuori dal comune, io lo ho vissuto a sponda PL, sono contentissimo, ovviamente ho lasciato il cuore un po' di rammarico perché avremmo voluto che si concludesse in un'altra maniera, ma detto questo sono stati tre anni uno più bello dell'altro. C'è un altro messaggio per te, visto che abbiamo parlato di questo, te lo leggo, un saluto caloroso all'amico Mitch, cosa pensa della nuova PL soprattutto nel settore lunghi? un saluto anche da Fabrizio, anche a Faraoni, è Fabrizio, facciamo la pubblicità, dai, dell'istributore Asce dove vi si serve tutta la PL, no? Grande, sì sì, lo saluto, ricambio saluto Fabrizio, io mi sento nel mio piccolo di fare un piccolo appello al popolo PL che è quello di non avere fretta, perché le squadre vanno lasciate lavorare, prima di poter tirare un bilancio alla PL bisognerebbe vederla in campo anche con il suo straniero, perché hanno avuto un precampionato con qualche acciacco fisico, anche i lunghi che hanno preso hanno bisogno di tempo per poter lavorare, quindi se si vuole arrivare fino in fondo, secondo me l'ambiente deve stare tutto unito, non deve farsi prendere dalla frenesia, avere fiducia nel lavoro dell'allenatore, del suo staff, della società, perché sicuramente tutti uniti arriveranno a giocarsi il loro sogno, però non è adesso che bisogna avere fretta e mettere grande pressione sulla squadra. Ieri bene da metà terzo quarto in poi, la PL era sotto di una decina di punti, poi ha messo il Turbo e ha portato a casa la partita senza tanti problemi, 19 a 13 il terzo quarto, addirittura 24 a 15 l'ultimo quarto. Posso dirti una cosa? Quando vengono gli avversari a Livorno, sono squadre di polla canestro che vengono per giocarsi la vittoria e qui non è sorprendente che una squadra per due quarti vada avanti, soprattutto visto per tutto quello che abbiamo detto prima, il livello è molto più alto anche della Serie B, non c'è sempre da andare a cercare un demerito se non si domina una partita, ci sono gli avversari, bisogna avere anche rispetto agli avversari, poi la PL nel corso dei 40 minuti è venuta fuori, ha saputo leggere la partita, ha arginato il tiro a tre punti, ha difeso molto bene sullo straniero di Sant'Antimo che aveva invece giocato bene nei primi due quarti e poi si è sciolta anche in attacco, perché tante volte è dalla difesa che nasce poi un attacco un pochino più fluido, per cui veramente stiamo sereni perché la squadra... Notare il stiamo, sottolineiamo il stiamo, perché la squadra è attrezzata per competere per gli obiettivi che deve avere. Per quanto riguarda i singoli, bene il reparto esteri, 15 Bonaccini che ha giocato molto molto bene nei primi due quarti, 15 in 19 minuti, quindi da rilevare, 4 su 6 da 2, 1 su 1 da 3, 18 di Venucci, 1 su 1 da 2, 4 su 6 da 3, 20 di Leonzio che sta riprendendo il suo miglior rendimento, 3 su 6 da 2, 3 su 7 da 3. Così e così lunghi, perché la PL ha avuto 3 punti da vedovato e soltanto 3 altrettanti appunto da paesano. Forse è lì che deve migliorare la PL Massimo, anche se è veramente molto molto prematuro dopo 40 minuti. Ma siamo all'inizio di un campionato impegnativo perché come è migliorata la 2, è migliorata anche la Binazionale e secondo me è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato l'allenatore e come è stato detto prima ci vuole pazienza perché l'amalgama e il lavoro poi alla lunga paga. E' lo stesso quello che è stato detto prima, conferma che oggi il livello in Binazionale è alto e le squadre vengano a Livorno sono di buon livello, perciò il fatto poi che il terzo e quarto tempo la squadra è cresciuta in difesa e in attacco vuol dire che il lavoro che è stato fatto è andato a buon fine. C'è un nostro amico che dice siamo una squadra riferita alla PL diversa da quella della scorsa stagione a tratti per come difendiamo, mi sembra di vedere il remake della Libertas dello scorso anno. Marco non so se hai avuto occasione di vedere qualche partita della PL magari in tv, ci sta questo paragone? Allora io conosco molto bene Federico Campanella e so che è un allenatore che non lascia nulla il caso, ho visto poco sinceramente perché ho visto un po' ieri sera in Pullman un po' dell'ultimo quarto e qualche spezzone della Supercoporto bene perché quando mi collego vanno avanti, hanno vinto con Ruvo alla fine, la finale non l'ho vista perché eravamo impegnati anche noi, credo che sia Massimo che Mi ci abbiano detto tutto quanto, quindi la squadra è costruita con un obiettivo che non si raggiunge domani, ma bisogna arrivare a giugno stando bene prima di tutto e poi provando in un modo o nell'altro a portare via quelle partite quando poi gli schemi saltano, quando contano gli uomini, quando conta il gruppo, quando conta la voglia di vincere, però credo che la PL sia assolutamente tra le squadre più accreditate per provare ad arrivare in fondo. Tanto giocatori importanti che militavano lo scorso anno da due, penso a Bonacini, penso a Leonzio, penso a Donzelli, insomma questa è la testimonianza che come diceva Mitch il livello del campionato è molto molto più alto di quello dello scorso anno, cioè la Serie B rispetto a, non allo scorso anno ma a due anni fa Massimo ha fatto un salto di qualità dal punto di vista qualitativo eccezionale. E' stato fatto questa ristrutturazione dei campionati dove da 64 squadre siamo passati a 40, sicché anche questo determina che il valore tecnico si è alzato molto, poi il fatto anche della novità dell'inserimento del giocatore non formato sicuramente per tante squadre accresce il livello tecnico. C'è un messaggio, vorrei chiedere a Mitch, secondo lui perché non è stato confermato Chiarini e secondo lui se si aspettava di essere chiamato a diventare head coach della squadra, due belle domande. Allora, il perché non si è stato confermato Chiarini non è una domanda che va fatta a me, nel senso che quando poi è arrivato il momento di confermare noi giocatori io avevo già preso la via di Siena e credo che chi ha preso delle scelte l'abbia fatto assolutamente valutando tutti gli aspetti, tra cui anche l'aspetto economico che è importante in questi casi. Per quanto mi riguarda avevo la necessità di mettermi in gioco, iniziare la mia carriera da capo allenatore, ma come abbiamo parlato in maniera approfondita con Gianluca e con Francesco, eravamo tutti e tre allineati sul fatto che non è questo il momento giusto per esordire da allenatore alla PL, la PL aveva bisogno di un allenatore che avesse già avuto un certo tipo di esperienza e che potesse guidare questa barca dove deve arrivare. Io apprezzo molto le parole che Gianluca mi aveva già detto in tempi non sospetti facendomi capire che non sarei stato in nessun caso il sostituto di Marco, alle volte anche le parole che sul subito fanno rimanere male, però sono quelle che ti aiutano a crescere. Gianluca secondo me ha grandi meriti da questo punto di vista, rientra un po' in quei dirigenti che hanno questo potere e secondo me il percorso fatto però mi ha dato per la prima volta la possibilità di fare il capo allenatore in una realtà a misura d'uomo che vuole crescere, ambiziosa per quella che è la Serie B interregionale e io sono contento così. Vediamo, c'è un altro messaggio per te, l'avevo visto prima, ti aspettiamo alla Balaustria. Va bene, volentieri, saluterò tutti la prima volta che andrò al Palamacchia a tifare per la PL. Allora, dalla squadra, dall'ex squadra di Chialini all'attuale squadra di Chialini, vale a dire la T-tecnica Giamma Montecatini che ha iniziato benissimo espugnando il parquet di San Severo. Tra l'altro anche la T-Giamma ha fatto una squadra che in realtà ha fatto male perché quest'anno il Toscane da corsa ce ne sono tre e secondo me anche Chiusi va tenuto ad occhio perché è un'ottima squadra. La Giamma ha vinto 74 a 59, ha avuto 13 punti da Bedin, 12 da Toscano e 11 da Chialini che però ha tirato male perché ha tirato soltanto con uno su otto da tre e uno su due da due. Però ecco qui abbiamo anche le immagini che poi sono il bello di questo sport, ha tirato con il 76% da due punti, 22 su 29. 38 a 26 il conto dei rimbalzi, Massimo. Anche Montecatini che giocherà a Pistoia, fra l'altro e questa è quasi una novità epocale perché il palaterme quest'anno è indisponibile mentre Irons giocherà a Lucca, una squadra da corsa. Già l'anno scorso avevano attrezzato una squadra competitiva per il campionato, quest'anno hanno fatto un ulteriore salto di qualità, perciò una squadra da battere sicuramente per tutti in questo campionato, vista anche l'esperienza che hanno fatto l'anno scorso in un campionato sempre di vertice. Assolutamente sì, una squadra importante perché Chiarini, lo sappiamo, l'MVP dello scorso campionato, ma anche Bedin, Toscano, i confermati di Pizzo e Pazzoni, Acunzo che è un giocatore a me piace tantissimo, Marco fanno sì che questo sia un roster assolutamente da prima fila. Savoldelli. Savoldelli, cambio del play. Esatto, quindi Savoldelli è parte della panchina, ma sicuramente anche le ambizioni di Gemma sono molto chiare, tra l'altro Marco De Re è un bravissimo allenatore, molto esperto e uno che da su... L'Ivornese, tanto per avlacciarsi al discorso di poco fa. L'altro allenatore Livornese che è andato anche in giro però a fare la gavetta, è un altro allenatore che storicamente mette in campo subito le squadre pronte dall'inizio, quindi Gemma già adesso mi sembra un'ossatura ben oliata e che possa migliorare durante l'anno, però già con dei punti di riferimento importanti, insomma ecco la campagna acquisti parla da sola. Può lottare per quello che è l'obiettivo, cioè secondo me le due di Montecatini e PL assieme a Roseto, perché Roseto in questo momento è ingiocabile, ha vinto tre partite, una 22 di 30, una con Montecatini, una contro la PL e ieri addirittura di 40 contro una squadra che lo scorso anno giocava in A2, possono stare nel ristretto novelo delle squadre che se la giocheranno fino alla fine, poi ci sono playoff che magari è un'altra storia. Sì, poi bisogna mettere Erons che comunque non dimentichiamoci che in questo momento magari non è proprio sotto la luce dei riflettori perché ha fatto un precampionato così così difficoltoso e magari è una partita di Coppa Italia che ha lasciato la dirigenza, squadra e staff un po' la mare in bocca, però non dimentichiamoci che Erons viene da una gara 5 persa in finale, che non vuol dire che l'anno successivo sei per forza costretto a dover vincere perché sei uscito a gara 5, però Erons ha tutto per competere alla fine e sono convinto che per ambizioni questo momento per iscritto le squadre che puntano ad andare su non finiranno con questo roster, chiunque farà dell'interno. Sono d'accordo, sono d'accordo. Noi ci fermiamo un attimo e poi andiamo a parlare proprio di Erons Montecatini che ha vinto dopo un supplementare sabato a Cassino. Lì nella regia, torniamo subito. Massima professionalità, impegno e qualità. A vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti e addette alla segreteria. Dentisti il sorriso, il sorriso amico a fianco del cittadino. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e il reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e altercardiaci e pressori anche a domicilio. Ordini e acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti, disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti, per starti sempre più vicino. Livorno24. 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 Nuovo, gratuito, interattivo e indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno24. www.livorno24.com Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Bene, rientriamo, dicevamo di Iros Montecatini, Iros Montecatini che ha vinto a Cassino, 16 di chiara, 23 di sgobba, 18 di Trapani in nuovo playmaker, in 23 minuti e questa è un'aggiunta importante perché, insomma, è vero che ha confermato quasi tutto il roster Massimo, però prendere giocatori come Trapani e come Klunchik, che lo scorso anno ha fatto la finale, vi fece un po', vi fece anche dannare, no Marco? Sì, neanche più di tanto, però è un buon giocatore. Un buon giocatore. Massimo, anche questa è una squadra, l'ha detto Marco, penso lo ribaderebbe. È una squadra che l'altro anno è uscita male dalla fase finale dei play-off per la promozione in A2, un po' anche a sorpresa, quest'anno hanno fatto dei correttivi, porteranno l'esperienza della passata stagione, da formazione ambiziosa sicuramente per giocare da protagonisti questa stagione. Tra l'altro è un giocatore come Trapani, secondo me, in Serie B, non dico sprecato, però diciamo che può fare la differenza, no Mitch? Sì, diciamo che secondo me Emanuele che io ho allenato a Cesena, in questo momento è in una categoria in cui può fare bene e che secondo me gli si addice, perché probabilmente gli andava stretta la biunica. Adesso con questa riforma dei campionati e questo livello così alto in Serie B, lui è un giocatore di Serie B di alto livello che può fare bene. Le squadre di Montecatini però hanno una grossa sfida, secondo me, a quest'anno. Sono ovviamente d'accordo col fatto che entrambe sono competitive ai piani alti della classifica, che è una sfida logistica importante, perché in un anno in cui, soprattutto Gemma, ha investito così tanto, si trova a giocare, mi sembra, a Pistoia, Irons gioca a Lucca e io credo che quando, negli anni così delicati, avere una routine con tutti questi turni infrasettimanali, avere una routine, un proprio campo di allenamento, il campo di gara, alla fine sia un dettaglio importante, per cui credo che i loro staff, oltre alle difficoltà che hanno tutti gli altri staff, hanno questa grossa sfida davanti che non sarà semplice portare a casa. Assolutamente sì, sicuramente una squadra da corsa, trappani, forse gli manca qualche centimetro per essere proprio un top del ruolo, magari anche al piano superiore. Sì, probabilmente per la due di adesso. E per questo ha tutta la mia simpatia. Però lui pensa un secondo in anticipo sugli altri, soprattutto in difesa, credo che un giocatore che sappia anticipare in difesa, rubare i palloni come fa lui, condurre il contropiede ad alta velocità. È un gran lavoratore, ha migliorato tantissimo anche sul suo tiro da fuori. Qualche anno fa le difese gli passavano in quinta, col motorino, si dice, da noi allenatori. Invece adesso è molto più rispettato, proprio perché è un giocatore di altissimo livello. Bene, andiamo adesso a parlare di una squadra che lo scorso anno giocava in Serie A2, vale a dire l'Umana San Giobbe chiusi. Una squadra, Massimo, della quale secondo me si parla poco, ma ha un roster molto attrezzato. Al di là della vittoria involata di ieri, poi vedremo anche come è arrivata. Le squadre che retrocedono e cambiano molto dell'organico si devono un po' ricompattare. Sicuramente rimane un po' di amarezza della scorsa stagione, anche perché loro la parte finale, la fissione da protagonisti, potevano ancora salvarsi. Quest'anno hanno cambiato allenatore, hanno cambiato tutti i giocatori o quasi tutti, perciò ripartano un po' da zero, però nel corso della stagione sicuramente possano crescere e essere una sorpresa. Tanto sono molto molto forti sotto, perché un giocatore come Renzi che lo scorso anno ha vinto la 2 con Trapani in questa categoria sposte, anche ieri hanno messo i 24. Sicuramente è un giocatore, Andrea, ancora di un'altra categoria, se sta bene fisicamente, è un giocatore che può dominare su tutti i due lati del campo. Anzi 19 in 24 minuti. Fra l'altro andiamo a vedere come si è risolta, perché non l'ho ancora detto e di questo mi scuso, Chiusi ha battuto 72 a 71 Iesi, l'ha vinta in questo modo. Ale, ce lo fai vedere? E questo è il bello del basket. No, questi sono gli highlights, abbiamo proprio, non ce l'abbiamo? Te l'avevo inviata, vedi se le recuperi, se no andiamo con gli highlights, nel mentre parliamo poi le andiamo a vedere. Insomma sostanzialmente Chiusi l'ha vinta con una tripla di Raffaelli, proprio classico buzzer beater. questi sono gli highlights, ovviamente non li abbiamo ancora a vedere, perché siamo qui sul 18 pari. Ci arriveremo e questo, Beach, è il bello del basket. Tra l'altro Raffaelli è un giocatore che personalmente mi è sempre piaciuto tantissimo, perché è uno di quei giocatori che vanno un po' contro i trend dei giocatori sempre più fisici, sempre più grossi, dei giocatori di oltre due metri che adesso devono fare i playmaker. Eccolo qua. Questo, rivediamola perché insomma, non era neanche semplicissimo, no? Proprio questo, questo è il canestro che ha dato la vittoria, perché l'aveva messa una Renzi a 40 secondi dal termine. Poi, eccola qua. Rivediamola. Questa è un'altra, è proprio la tripla della vittoria. Eccola qua. Non semplicissima, no? No, no, però Lorenzo è un giocatore che ce li ha questi numeri qui, perché è un altro giocatore che ha feeling con il canestro, le ha sempre fatti in tutte le categorie, quindi sono contento per lui perché è un bravissimo ragazzo. Ne ha messo i 12 in 27 minuti, 2 su 4 da 2, 2 su 6, 2 su 4 da 3. Tra l'altro, chi è chiusi ha testimoniali che secondo me è una delle squadre con il reparto lungo più forte del campionato, perché c'è anche un certo sacchettini. che in Serie B sposta, ha vinto nettamente la lotta al rimbalzo, 37 a 29. Per quanto riguarda i punteggi individuali, 12 di Rasio, 12 di Raffaele, l'abbiamo detto, 11 di Cricone, è un giocatore che tu avevi cercato lo scorso anno durante il cosiddetto mercato di riparazione. Confermi? Sì, sì, perché Martino è un giocatore che conosco dai tempi delle giovanili, era il giocatore che poteva darci quel quid in più a livello offensivo e di fisicità, non c'è stata la possibilità di concretizzarlo perché poi alla fine Piacenza non lo mollava, quindi abbiamo dirottato su Terenzi che dopo per lui ci ha lasciato un crociato proprio a Piacenza e quindi... Però ha trovato la fidanzata, ha trovato la fidanzata, buon per lui, gli facciamo gli auguri di poter tornare, adesso è sotto contratto con Nomenia dove lui era già stato, sta andando bene, l'ho sentito in questi giorni e lo aspettano tutti in campo perché si tratta di un ragazzo speciale. Con un rosa di questo genere però secondo me Mitch non ci si può nascondere, ora magari non sarà tra le primissime primissime, però è immediatamente dopo. Sì, assolutamente, ma anche la Serie B nazionale sarà un campionato estremamente equilibrato, questi turni infrasettimanali che sono record rispetto ai campionati degli ultimi anni... Quanto possono spostare così tanti turni infrasettimanali? Sposteranno tanto, tutte le squadre innanzitutto in previsione si sono attrezzate facendo roster più profondi, il roster tanto profondo comunque richiede grande capacità di gestione da parte degli allenatori perché ci sono roster a 10 giocatori effettivi e quindi rende il tutto molto più interessante, secondo me bisogna far passare un mesetto per capire più o meno quale saranno le gerarchie perché non mancheranno le sorprese. Tra l'altro a proposito di roster lunghi, ho parlato a lungo con Franco Gramenzi, coach di Roseto al termine della Supercoppa che Roseto non ha vinto ma ha dominato e anche lui puntava il fatto sul fatto, tanto per giocare con le parole, che non è semplice ma è necessario convincere qualche giocatore importante e non è tantissimi a rinunciare a qualche minuto per il beneficio della squadra Massimo. Sicuramente, poi Gramenzi è un allenatore di grande esperienza, ha vinto tanti campionati e penso che questa sia una filosofia giusta. Loro dall'esperienza dell'anno scorso di play-off con Livorno hanno seminato da società e squadra ambiziosa allungare il roster e apprende i giocatori più di esperienza sicuramente per provare a far salto di qualità. Tanto per dire, ieri hanno dominato la partita con Luis Roma cortando sei uomini in doppia cifra. Per chiudere l'argomento Serie B nazionale parliamo dell'unica squadra tra le toscane che giocano in questo campionato che ha perso. Si tratta di Piombino che ha perso a Salerno, ha tenuto botta nei primi 20 minuti, poi invece nei secondi 20 Salerno è scappato. Abbiamo le immagini anche qua, eccole qua, 44 a 25 il parziale degli ultimi 20 minuti. Piombino ha scelto, Mitch, di cambiare quasi completamente tutto. Ha cambiato il coach, prendendo Signorello, un coach sudamericano, ha andato via Venucci, ha andato via Piccone, ha andato via Berra che probabilmente erano i tre giocatori migliori o quantomeno più rappresentativi della scuola del golf. Si, Piombino probabilmente rispetto alle toscane di cui abbiamo parlato prima ha qualcosa in meno. Non si può non citare la sfortuna che hanno avuto nel precampionato perché hanno perso, secondo me, il perno attorno a cui era costruito questo progetto di giovani che era un allenatore molto esperto come Zanchi. Di conseguenza adesso c'è un po' l'incognita di misurarsi in un campionato di così alto livello, però in effetti senza l'esperienza di Zanchi sono in questo momento un oggetto… Work in progress. È un work in progress, come poi tutte le squadre giovani. Hanno tantissimi giovani. Massimo, tu sei da sempre un propugnatore del largo ai giovani. È una squadra ringiovanita molto. Perciò, hanno avuto anche un infortunio, mi sembra, di un giocatore la settimana scorsa, perciò gli equilibri li devono trovare. Però Piombino ha un suo programma, una società seria, sempre rispettosa degli impegni, perciò credo che alla fine l'obiettivo sia quella di una salvezza non troppo sofferta e con questo gruppo qui possono sicuramente crescere all'interno del campionato. Tanto lì c'è un giocatore che a me piace tantissimo, che è Nicoli. Davvero un gran bel tiratore, ma ci sono due ex giocatori che sicuramente seguirai con grande affetto, vale a dire Francesco Forti, cinque ieri, e Andrea Sipala che ne ha messi quattro. Gli giocatori che in B contano. Sì, sì, l'esperienza di questi due giocatori è sicuramente importante. Mi riallaccio a quello che ha detto Mici prima. Sicuramente non sarà facile, perché io poi sono di parte, perché Andrea Zanchi è un amico fraterno, veramente siamo di famiglia, so cosa aveva in testa con la costruzione di questa squadra. Poi quando cambi l'allenatore con una squadra fatta, hanno preso un allenatore straniero che sicuramente ha una grande esperienza, perché quando alleni le nazionali fai le competizioni al massimo livello sicuramente non sei l'ultimo arrivato, però la conoscenza dei tuoi giocatori scelti da un altro e del campionato sicuramente un periodo di assestamento lo richiederà. Quello che deve fare sicuramente la piazza di Piombino, che io conosco bene, è quello di supportare questi ragazzi. Avere chiaro che probabilmente dopo qualche anno di soddisfazioni magari ci sarà da rimboccarsi le maniche, che mai è gente tosta, è gente che sta vicina alla squadra, a Piombino vogliono bene alla squadra, però bisogna dare tutto e quindi credo che la definizione senza fronzoli dell'obiettivo salvezza secondo me possa aiutare poi ad avere ben chiaro come affrontare questo tipo di campionato qua. Bene, chiudiamo l'ampia parentesi dedicata alla B nazionale, scendiamo di categoria, andiamo a parlare della serie B interregionale, che nello specifico è interregionale per modo di dire, perché in questa fase sono tutti toscani. Andiamo con il nostro spottino e poi con i risultati, sempre grazie alla nostra collaborazione con Basket World Life e Toscana Basket World Life. I risultati della serie B interregionale sono offerti da Time Out Sport Lab. Eccoli qua i risultati, vedete la bella vittoria della Visibederi Costone-Siena a Quarlata per 80-75, ne parleremo ampiamente con Mitch, poi la vittoria di Empoli su Siena, l'agevole successo di San Minato che sta facendo veramente molto bene, un basket corri e tira basato sul tiro da tre punti, sembra di vedere un po' la Varese di un paio di anni fa, batte 98-72 Spezia, poi Cecina vince soffrendo a Castelfiorentino, vittoria della Menzana su Arezzo e poi facile Lucca su Legnaia. Allora, partiamo, anzi abbiamo anche la classifica, qua l'abbiamo per doveri di sponsor. La classifica della serie B interregionale è offerta da Visibederi Farma, integratori per gli sportivi. Eccola qua la classifica, vedete le squadre che hanno vinto ovviamente a due, sono quelle di sinistra, le squadre che hanno perso sono quelle di destra, ovviamente a quota zero, qui abbiamo riportato anche il ruolino di marcia, giocate vinte perse e poi quelle evidenziate in arancione sono i punti. Allora, ringraziando Visibederi Farma che ci dà una mano per questa trasmissione, partiamo proprio dal tuo costone. Ce l'avevamo sentiti quando ti ho invitato, hai detto ma, guardata, non è una partita difficile, pronte via, due punti d'oro. Sono contento, come ho detto anche dopo la partita, giustamente il costone ha... Da matricola, ricordiamolo. Esatto, un calendario da neopromossa, che dobbiamo onorare nel migliore dei modi, le prime tre partite in particolar modo sono particolarmente ostiche, quarata l'anno scorso non credo abbia mai perso in casa, noi siamo riusciti a batterla, siamo stati secondo me anche abbastanza bravi e rapaci nell'approfittare della loro assenza di Tiberti, a onor del vero, che per loro è un giocatore molto importante. Abbiamo fatto due quarti dove, soprattutto in attacco, abbiamo sbagliato molto poco a livello di scelte e anche le percentuali ci hanno assistito. Nei secondi due quarti c'è stata una rimonta loro che è da ricercare gran parte nei loro meriti. L'anno scorso loro hanno fatto un campionato ricco di rimonte, soprattutto in casa, non è inusuale per quel gruppo recuperare dei meno 20 e lì sicuramente poi sono venuti fuori un pochino dei nostri limiti. La cosa che però mi è piaciuta di più è che non ci hanno più assistito le percentuali, ma invece le scelte sono state quasi sempre scelte equilibrate in attacco. Questo ci ha permesso, per quanto possibile, di contenere la loro sfuriata e di portare a casa due punti d'oro. Per quanto riguarda i singoli, 21 di Filippo Paoli, 5 su 11 da 3, 11 a testa di Banchi e Zenelli. Per quattro rata, 24 di Moltenima, con 7 perse, e doppia doppia di Federico Regoli, uno che in questa categoria ci sta veramente molto largo, secondo me potrebbe giocare anche in Bia Nazionale, da 17 punti e 12 rimbalzi. I due Paoli, Massimo, Scuola Don Bosco, si fanno sempre valere. Mano calda? Sì, sono buoni giocatori, questo è un campionato che loro faranno da protagonisti, loro hanno tante qualità, che sono anche quelle di passione, di impegno, perciò sono due ragazzi che si fanno sempre benvolere da chi l'allena e da compagni di squadra. Assolutamente sì, poi c'è un messaggio per Mitch, Mitch ma non è che vuoi vincere il campionato col Costone, rifacendoti di quello che non hai vinto lo scorso anno? Allora, vale sempre la stessa regola, innanzitutto l'obiettivo nostro a Costone è mantenere la categoria, poi in un campionato che è una formula molto particolare, perché se ci fossero stati playoff a otto squadre, non mi sarei nascosto nel dire che avrei voluto mantenere la categoria raccattando un posto playoff di quel genere, con un taglio a sei squadre a gennaio, facendo i conti della serva, siamo in più di sei che hanno l'obiettivo di stare in quelle prime sei lì. Poserei dire quasi tutte. Sì, è certo, non è che si può partire per dire stiamo nella seconda metà della classifica, dobbiamo stare lì, dobbiamo essere bravi, quando ne abbiamo l'occasione a portare a casa i due punti e vivere con equilibrio, per questo mi fa sorridere sentire parlare di vittoria del campionato e probabilmente fa cadere dal letto anche il mio presidente. Che salutiamo, Tony Montomori. Che quando mi ha firmato mi ha detto guarda, a me interessa capire di questa categoria, mi interessa che ci sia una squadra che diverta, di carattere, però ci sarebbero due situazioni che mi metterebbero in crisi. Una è la retrocessione e l'altra probabilmente sarebbe vincere il campionato troppo presto. Perché una delle cose che secondo me è il marchio di fabbrica del costone è quella che stanno lavorando per creare una struttura. Per cui non hanno investito tutto solo sul rinforzo della squadra, ma mi hanno messo a disposizione uno staff seppur non professionista ma di altissimo livello. Per cui ho due assistenti, ho l'esperto Marco Collini che viene a fare allenamenti individuali con me al mattino, ho uno staff fisioterapico e medico di altissimo livello, sicuramente fuori categoria, loro sì che sono fuori categoria per la Serie B interregionale e poi ci sono Francesco Bonelli e Andrea Naldini in cabina di regia che stanno lavorando proprio su tutto l'ambiente del costone per farlo crescere, per cui non c'è assolutamente fretta. Senti, Siena è un po' come Livorno, si mangia pane e basket a tutte le ore, lì come a Livorno ci sono i derby che contano tantissimo perché anche fra l'altro Menzana e Virtussiana, Stosa Virtussiana sono nello stesso campionato quindi ci saranno sei derby e saranno grandi spettacoli. Quanto è sentita questa rivalità? Allora innanzitutto credo che i derby facciano assolutamente bene lo dicevo ai 4-20 quando sono stato a Livorno credo che per l'ambiente e per il movimento servano dei derby perché creano grande visibilità alle società e allo sport in generale sono perfettamente d'accordo sulla scelta che hanno fatto la mia società e la Virtussiana di disputare entrambe i derby che giocheremo uno contro l'altro al Palaestra per permettere a più persone di venire a vedere la partita credo sia una scelta lungimirante il derby con la Virtuss sentito credo che però il derby che accende gli animi sia quello tra noi e la mensana perché ha degli strascichi dalla finale che ha vinto Costone l'anno scorso 3-2 a gara 5 che ha acceso veramente la passione in città quindi mi sembra riavvertire che il derby veramente sentito sia quello con Mensana e invece quello con Virtus sarà una partita dove la rivalità non mancherà ma è un derby dove le società proprio si adoperano per la visibilità del movimento due parole nel merito anche qua a Rata Marco una squadra molto molto forte che si è ulteriormente rinforzata è vero che mancava Tiberti ma giocatori come Regoli lo stesso Molteni sono di lusso per questa categoria sicuramente loro è anni che stanno investendo che stanno provando a rimanere al vertice poi è ovvio che bisogna entrare nel nel contesto societario per capire a livello di Bint regionali quali sono veramente gli obiettivi delle società perché poi vincere il campionato tutti ci tengono però poi sono scalini importanti quindi come diceva il presidente di Costone sicuramente le retrocessioni vanno evitate però ogni tanto le promozioni vanno programmate ecco diciamo così quindi Quarrata è un'altra delle squadre che ha fatto da anni sta facendo delle buone squadre e quindi non mi sorprenderebbe vederli lì al vertice alla fine Parliamo delle altre squadre di Siena partendo dalla Menzana Menzana che così come il Costone è una matricola il Costone ha vinto il campionato la Menzana è stata ripescata che parte bene battendo Arezzo spaccando la partita già nel primo tempo chiuso su più 18 poi Arezzo prova a rientrare arriva vicino all'aggancio ma alla fine i punti vanno alla Menzana eccole qua le immagini per Paolo Betti abbiamo 18 per Prozi e 14 per Tognazzi per Arezzo 19 di Prega in doppia cifra anche Buzzone Toia e Michael Lemmi la Menzana sicuramente Massimo ha grande belasone e ambizioni correlate una squadra che pian pianino ripartendo da molto lontano neanche tanto pian pianino è riuscita già ad arrivare fino alla vinta regionale Siena è un po' come Livorno c'è grande tradizione rivalità e la Menzana è sicuramente con la sua storia il fatto di poter risalire e essere una squadra a breve importante in un panorama forse anche della Binazionale sicuramente lo proverà a riportare a Siena dove c'è passione c'è pubblico c'è tradizione c'è il settore giovanile perciò è una crescita come ha detto Marco deve essere programmata e mirata però è una società che ha la volontà di crescere c'è un messaggio avete voglia di parlare dei derby tanto li vinciamo noi della Menzana evidentemente il nostro amico che ci segue è Dassiana Michi che squadra è la Menzana e una parolina anche su Arezzo allora la Menzana è una squadra che appunto per tradizione per pubblico che la segue propone sempre dei roster che alla fine sono competitivi secondo me è una squadra che è costruita con intelligenza ed è una squadra che sicuramente sarà competitiva per per strappare un pass in quei primi sei posti della classifica sui risultati dei derby non sono d'accordo nel senso il tifoso a Menzana non è sicuramente scaramantico questo è vero l'altra squadra è il suo Arezzo velocemente Arezzo anche lì ha cambiato allenatore ha cambiato qualche qualche giocatore e si inserisce perfettamente in un campionato che sto conoscendo anch'io attenzione perché io negli ultimi anni ho lavorato e dedicato tanto tempo diciamo al mondo LNP e per cui mi sto creando una cultura mi sto informando su quelli che sono i valori in campo del campionato che quest'anno mi tocca e mi riguarda Arezzo sposa perfettamente i crismi di una squadra di Serie B interregionale che lotta che può cambiare su tanti blocchi e che sicuramente renderà complicata la vita tutti quelli che l'affronteranno l'unica squadra delle tre di Siana che invece inizia il campionato con una sconfitta alla Stosa Virtusiana ma non era facile perché giocava a Empoli contro una squadra molto molto forte la compagine di Luca Valentino parte bene fino a poi alla rimonta della Stosa Virtusiana che piazza un 26-16 nell'ultimo quarto che però non è sufficiente per rimettere la partita in piedi in casa Virtus 21 di Bartoletti che però tira con 1 su 8 da 3 14 di Calverlini 11 di Dalmaso per Valentino 22 di De Leone 12 di Giannone e 11 a testa e la coppia Maric-Rosselli abbiamo anche qua le immagini Massimo Empoli è una squadra tra le più attrezzate giocatore importante come Maric che abbiamo visto tra l'altro figlio d'arte che abbiamo visto qualche anno fa qua al Don Bosco Rosselli che è un nome una garanzia insomma una squadra da prendere con le molle Sì anche l'altro anno Empoli ha fatto 3 off da protagonista sempre una squadra che ha un mix tra esperti e prodotti del loro vivaio che è un vivaio molto importante dell'use Empoli perciò sicuramente una protagonista di questo campionato dell'ambiente regionale una delle squadre di prima fascia sicuramente ma se foste costretti a puntare il classico Euro su chi lo puntereste lo so che si fa per giocare Mitch escluso Costone no va bene ma diciamo che e poi c'è anche Ceci da quando parliamo sì assolutamente al netto dell'equilibrio di cui ho parlato prima probabilmente è una squadra con Rosselli Maric Quartuccio Sessoldi per la Binter regionale è una squadra che possiamo definire tranquillamente la favorita sarà la nostra prossima avversaria mettendo le mani avanti no 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 assolutamente anzi spero di mettere il piede avanti per fare uno sgambetto però bisogna essere onesti e poi c'è un'altra cosa ricollegandomi alla parola che ha detto Marco che è fondamentale a tutti i livelli che è la programmazione loro sono al secondo anno di lavoro con lo stesso allenatore con lo stesso nucleo di giocatori l'anno scorso hanno fatto i playoff quasi fino in fondo e di conseguenza con quei giocatori e al secondo anno di lavoro è giusto che siano i favoriti e poi starà a noi giocare per battere i favoriti è un po' il bello dei campionati Massimo Michi dice Empoli puoi astenerti in virtù credo che per quello che ha detto Michi mi sembra che sia una delle squadre sicuramente da battere Empoli per l'esperienza di alcuni giocatori e allo stesso tempo come ho detto prima il fatto di avere anche dei buoni giovani che l'anno scorso sono stati già protagonisti nella fase dei playoff e sono usciti con Cecina all'ultimo giro e come quando si va alle aste dei cavalli Empoli per la prima Empoli per la seconda Empoli per la terza dico Empoli perché se dico Cecina d'Apra non mi risponde più al telefono devo sentirlo anche domani quindi per scaramanzia dico Empoli allora Cecina lo dico io perché Cecina è una squadra molto molto forte al di là della vittoria sofferta di tre a Castel Fiorentino perché quando nel roster hai un giocatore come Saccaggi che ieri per niente ne ha messi 25 e 27 minuti con 8 su 8 liberi e 5 su 10 nelle triple abbiamo anche qua le immagini non sono granché ma questo è quello che abbiamo ricevuto 12 di Dabò 10 a testa di Pistillo e Nernipieri per Castello 27 di Gutierrez 9 su 18 dal campo 16 di Corbinelli ma su 5 su 15 al tiro giocatore come Saccaggi ti ha fatto vincere diverse partite lo scorso anno penso a quella di Faenza che secondo me vi ha cambiato il campionato penso a Vellino nella stagione regolare giocatore come Saccaggi che si è stabilito a Livorno Roseto Roseto bravo in B inter regionale fa la differenza se sta bene esatto e anche se non sta benissimo no perché ha imparato a convivere con la sua problematica perché diciamo che anche Andrea qualche chilometro in carriera lo ha fatto un po' di usura ce l'ha però un ragazzo intelligente soprattutto un ragazzo che ci tiene tantissimo un ragazzo sempre con grande spirito di competizione un ragazzo che per tornare a quello che dicevamo prima quando parlavamo di Roseto quando parlavamo delle contender della B1 per la vittoria del campionato con i roster a 10 io ne parlavo proprio con Gramenzi che sono andato a ringraziarlo per averci fatto vincere l'anno scorso gli ho portato due bottiglie di Prosecco e grazie che ci hai fatto vincere la finale dicevamo proprio a parte gli scherzi dicevamo proprio questa cosa qua l'accettazione del ruolo e l'accettazione che quando tu vuoi vincere prima di tutto viene la squadra e Andrea queste cose questi valori li ha prima di tutto è un professionista serissimo non va a casa piangere se l'allenatore lo fa giocare 17 piuttosto che 15 e quando si è dovuto far trovare pronto si è fatto trovare pronto e questa non è una cosa da sottovalutare per un veterano come lui che poteva accampare qualsiasi tipo di pretese non fosse altro per la qualità estrema che mette quando gioca assolutamente sì chiudiamo il panorama della Biente regionale andando a parlare delle belle vittorie le più larghe di questo turno di San Mignato e Lucca San Mignato col suo basket a 100 all'ora ne parlavo poco fa dà addirittura 26 punti di scarto a Spezia altra compagine che non nasconde ambizioni importanti ma che deve sicuramente perdere meno palle perché ha perso 29 palle e quando si perde un 29 palle massimo si perde praticamente sempre quindi quando si sceglie un playmaker la prima cosa che si guarda è palle recuperate e palle perse perciò questo fa la differenza sicuramente anche se Spezia anche qui allenatore nuovo ha cambiato tanti giocatori sicuramente per entrare in questo campionato gli serve un po' di tempo assolutamente sì invece sembra non servire del tempo a San Mignato che ha fatto un pre-campionato straordinario e ha iniziato con il botto 22 di Menconi 19 Caglio 17 in Bayer per quanto per i Liguri 18 di Merlo e 16 di Hang Dukhan l'hai vista San Mignato? l'ho vista l'ho vista in pre-campionato ha giocato tra l'altro anche la prima partita di pre-campionato con l'APL segnando 88 punti anche all'APL in un contesto particolare come può essere quella la prima giornata della prima amichevole dell'anno è una squadra che va a 100 all'ora trovo tante similitudini con la Piombino l'anno scorso di Cagnazzo è una squadra che è contro cui è difficile difendere perché ripartono subito rimesse veloci non ti fanno schierare apertura veloci sembra 7 second o less di Mike D'Antoni a tempi dei Phoenix Suns hanno poi tanto talento individuale perché a 100 punti bisogna segnarli perché uno può andare sempre a 200 all'ora ma se non si fa mai canestro far canestro aiuta e se lo fai riuscendo a correre a 100 all'ora sicuramente i tuoi avversari qualche grattacapo ce l'hanno questo per San Mignato Spezia deve sicuramente crescere una squadra che a me piace tanto è Lucca Lucca vince 91 a 68 con Legnaia chiudendo la partita con il terrificante 33 a 11 del terzo quarto Lucca tra l'altro ecco qua le immagini a Olivieri mancava un giocatore importante come Andrea Vignali che a queste latitudini può ancora fare la differenza per i punteggi individuali 6 uomini in doppia cifra e questo lo dice Lunga sul talento che ha a disposizione la compagine lucchese 17 di Del Debbio 16 di Trentin in casa Legnaia 11 uomini a referto ma due soli in doppia cifra Munoz a 19 e Nepi a 13 Massimo secondo me Lucca qui vediamo le immagini è una squadra che tenere assolutamente d'occhio Trentin Vignali insomma giocatori importanti loro sui buoni risultati della scorsa stagione hanno inserito qualche giocatore in più ha confermato l'allenatore anche questa è una società seria che fa il passo secondo la gamba senza mai rischiare a Lucca ultimamente è rinata anche passione c'è anche abbastanza presenza al palazzetto l'arrivo anche di Montecatini a Lucca secondo me darà una spinta ancora di più al basket della città perciò possono sicuramente fare bene secondo i loro progetti mentre chi ha ancora bisogno di tempo è Legnaia che ha stravolto roster società perché non c'è più Riccardo Zanardo che è passato dietro la scrivania è la prima scuola di Firenze secondo me poi alla lunga un campionato positivo lo mette in cantiere sì è una società comunque molto organizzata perché c'è un lavoro dirigenziale dietro importante non hanno mai fatto il passo più lungo della gamba e quindi sicuramente potrà avere delle difficoltà ma sono convinto che alla fine il loro obiettivo lo portano a casa anche quest'anno bene siamo arrivati veramente in conclusione ci sono delle domande per tembe le sono tenute in fondo volevo sapere da coach Andreazza se è sorpreso dalla sconfitta di Torino in casa no perché prima di tutto è un campionato che nelle prime 8-9 giornate può succedere qualsiasi cosa abbiamo visto insomma delle sconfitte non ti dico impronosticabili perché non c'è niente di impronosticabile però anche già dalla prima giornata come avevamo visto prima anche da grafica ci sono state delle vittorie così un po' a sorpresa diciamo così e seconda cosa perché Torino ha perso con Verona cioè non è che ha perso proprio con gli ultimi arrivati quindi la partita è stata un poro cambolesca poteva vincere la Torino che era andata sopra dopo essere stata sotto di tanto e poi alla fine la spuntata Verona ma insomma non mi sorprende per questi due motivi qua il campionato equilibratissimo e il valore di Verona che Alessandro mette sempre in campo con grande maestria andrei a affrontare un guru della categoria come Matteo Boniccioli no? Sì ma ce ne sono tanti di guru della categoria quindi l'importante è avere grande rispetto provare a imparare qualcosa sempre uscire da ogni partita con qualcosa di positivo e ogni tanto anche con qualche punto che aiuterà la classifica ogni spesso è meglio esatto poi ancora per te volevo sapere da coach Andreazza se il roster pensato dall'era tecnica di quest'anno è stato di difficile soluzione o ripensamenti tra scegliere un pivo o una guardia americana ne abbiamo già parlato poco fa comunque ribadiamo al concetto no ribadisco nel momento in cui si è fatto il primo la prima scrematura su quelle che potevano essere le riconferme o contratti in essere e quant'altro noi dovevamo mettere sostanzialmente quattro giocatori uno si è fatto subito che è Ariel perché abbiamo avuto anche la possibilità di avere una situazione logistica vantaggiosa non dimentichiamoci che Ariel aveva offerte da squadre di alto livello in A2 Trieste stessa lo voleva tenere però lui comunque avendo preso casa a Pistoia voleva un pochino avvicinarsi bimbo piccolo e tutto quanto cosa che peraltro in questi anni in queste categorie sta succedendo perché Delfino ha fatto la stessa cosa gioca a 100 perché ha preso casa a 100 quindi diciamo che l'operazione di Ariel è stata abbastanza facile e fatta in tempi brevi poi abbiamo dovuto mettere i due americani e un lungo come Nazareno che avesse determinate caratteristiche tecniche per poter sfruttare un po' insomma i roll diciamo così e aprire un po' l'area a Fantoni e Buca che magari gli anni scorsi trovavano un po' di ingombri dentro e quindi è stato fatto tutto in maniera ponderata però bisogna dire che ripeto ormai si va in un basket dove bisogna stare con le antenne dritte bisogna vedere che cosa offre il mercato anche durante la stagione non è mai mia intenzione quella di cambiare le squadre cioè cerco di farlo meno possibile che vuol dire dare fiducia al gruppo che è stato pensato durante l'estate però è ovvio che i campionati sono talmente lunghi e talmente impegnativi che ogni tanto gioco forza qualche innesto cammin facendo sei costretto a farlo lo fanno quasi tutti sì lo fanno quasi tutti chi per necessità chi per volontà chi per raddrizzare a qualche scelta che magari non è stata poi così azzeccata quindi insomma stiamo vigili ma siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto poi c'è un'altra domanda per te ma prima leggo la domanda per Mitch Mitch sono un tifoso PL complimenti per la bella vittoria alla prima di campionato domanda scomoda cos'è successo contro Avellino? Allora innanzitutto Avellino è una squadra molto forte torno non per niente poi è andata in azzurra torno a quello che avevo detto prima tante volte si vanno a cercare dei meriti che sicuramente abbiamo avuto ma bisognerebbe concentrarsi anche sui meriti degli avversari lo stesso Avellino ha fatto dei playoff che credo siano unici nella storia della pallacanestro ha rimontato con San Vendemiano ha rimontato con noi ha rimontato con Iros Montecatini per quanto riguarda noi è vero può sembrare che dopo una stagione molto convincente la Supercoppa vinta sia successo qualcosa di grave in realtà noi nel 2024 abbiamo perso contro due squadre che a mio avviso erano più forti di noi che sono la Libertas e l'altra è Avellino che sono le due squadre che hanno meritatamente vinto il campionato e sono passate di categoria per cui non è che esistono verità scomode ce l'abbiamo messa tutti a partire da Marco Cardani che fino all'ultimo ha pensato e ripensato a come poter portare la barca in porto a tutti i giocatori probabilmente ci è mancato un po' di malizia ci è mancata un pochino probabilmente di esperienza questo è vero però insomma se adesso l'APL è una piazza così ambiziosa e così voglio dire attrattiva anche nei confronti di giocatori che anni fa non avrebbero neanche ascoltato una chiamata arrivata dall'APL fino a 3-4 anni fa deriva dalla grande crescita che ha fatto la società dal lavoro fatto dagli allenatori Andrea e Marco con cui ho avuto la fortuna di lavorare e dall'enorme crescita del pubblico che indubbiamente inizia a essere uno dei motivi per cui i giocatori scelgono l'APL Massimo il discorso di Famic mi fa pensare che talvolta quando si analizzano soprattutto le sconfitte si sottaciano volutamente o no questo magari se ne può ragionare i meriti degli avversari perché si gioca sempre in due questo non va mai dimenticato sì questo è bene sottolinearlo perché si cerca sempre di vedere i difetti nostri ma non quanto invece l'impegno e il merito degli altri l'esperienza in queste fasi paga sempre avere dei giocatori che hanno già fatto delle finali è qualcosa in più non averli può in un playoff a cinque partite mancare qualcosa quello che c'è bisogno è anche a volte che la società il management diano serenità perché questi frangenti di fine campionato serve sicuramente anche quello perché la serenità ti dà consapevolezza delle tue forze e ti fa sicuramente lavorare meglio per raggiungere l'obiettivo e questo se manca è un elemento in più che hai difficoltà poi a vincere un campionato bene abbiamo già sforato e di questo ringraziamo la regia ultimissima domanda prego una risposta sintetica e so che ti chiedo un sacrificio domanda per Andrea mercoledì vicino al sold out al Palamacchia quanto conterà secondo lui il fattore campo per la libertà sinottica salvezza ammesso che si giochi al Palamacchia ma ampliando il concetto su tutto il campionato no il fattore campo deve contare tantissimo deve contare tantissimo perché lo abbiamo perché altre squadre del nostro livello o presunte tali perché poi del nostro livello non vuol dire niente cioè vuol dire solo la carta estiva no però tante altre squadre non ce l'hanno questo fattore campo per cui sicuramente sappiamo che il pubblico di Livorno è un pubblico molto esigente è un pubblico però che se vede che la squadra gioca con una determinata aggressività attenzione e orgoglio è pronto a supportarla quindi bisogna che andiamo avanti sapendo anche senza smorzare gli entusiasmi che le percentuali di vittorie in questi anni che ci sono state probabilmente sono destinate gioco forza a scendere ma questo non cambia niente anzi sarà ancora più bello quando porteremo a casa un risultato importante magari qualche risultato isperato perché magari qualcuna delle big ci lascia le pene un po' la macchia allora sarà grande festa ma dobbiamo avere chiaro tutti qual è l'obiettivo quello della salvezza esatto bene siamo arrivati veramente in conclusione di questo vernissage dell'edizione 2024-2025 di Toscana Basket ringrazio di essere stato con noi il coach della Visbederi Siena Mitch Belletti ciao Mitch ciao Alessandro grazie per l'invito buonasera a tutti ti richiameremo va bene non sono più comodo come l'anno scorso però vengono eh vabbè ringrazio di essere stato con noi l'allenatore della Libertas Livorno Marco Andreazza ciao Marco ciao Ale grazie sempre un piacere ora ti farai aspettare tutto l'anno o qualche non dici prima va bene quindi non ti sono manco a telefonare ringrazio davvero che modo facciamo assolutamente sì ricordo l'appuntamento voi giocate già un mercoledì con Torino ringrazio davvero di cuore per la mano che dà questa trasmissione ma soprattutto per essere stato qua con noi il presidente della FIP Toscana Massimo Faraoni grazie a voi dell'invito ci rivediamo non dico presto ma non presto ma in corso d'opera sì bene davvero grazie a tutti e tre grazie a tutti voi amici telespettatori che avete inviato veramente tanti messaggi perché era la prima puntata ricordo che da domani mattina presto la puntata sarà visibile anche sul canale ufficiale di YouTube non mi resta altro che rinnovarvi l'appuntamento per lunedì prossimo sempre alle 20 e 30 sempre su Telecentro sempre ovviamente con Toscana Basket grazie a tutti ci vediamo tra una settimana grazie a tutti